Lunedì 10 agosto, dopo l'annuncio, i fatti. Stiamo percorrendo il tranco di via Roma, compreso fra Parco Pozzi e via Sergio, che è stato aperto al traffico veicolare così come annunciato qualche giorno fa dai comunicati stampa. I lavori sono stati completati, non ci sono problemi a livello di scese come erano stati segnalati dal consigliere Palmieri e da qui si infila regolarmente via Sergio. L'impegno è stato mantenuto, impegno rispettato anche nel tratto di via Roma compreso fra Porta Napoli e via La Marmora, dove le fioriere impediscono l'accesso diretto essendo la zona traffico limitato a partire dalle ore 10 del mattino fino alle ore 13. Anche qui la strada è completa ed è percorribile alle autovetture. Al momento sono parcheggiate ai lati della strada, ma qui il parcheggio sarà vietato. Entro questa settimana, tra mercoledì e giovedì, verrà aperto al traffico veicolare anche questo tratto, compreso tra via La Marmora e via Cavour, dove sono già iniziati i lavori fin da questa mattina per completare l'opera di ristrutturazione di via Roma.